Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Apriamo con la politica e in particolare parliamo di referendum costituzionale perché questa mattina a Mosciano c'è stata la visita del ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi che ha illustrato le ragioni del sì. Vediamo. Questa riforma è una riforma autoritaria che aumenta i poteri del governo, che rende il Presidente del Consiglio il capo assoluto del Paese. Allora anche lì abbiamo detto, beh, leggiamolo allora questa legge costituzionale, vediamo e ci rendiamo conto che non è vero, che non c'è nemmeno una parte che cambia i poteri del Presidente del Consiglio e del governo. Magari qualcuno dice purtroppo, perché magari qualcuno avrebbe voluto invece che ci fossero anche quelle modifiche, ma non ci sono, non ci sono in questa riforma costituzionale. Parte dall'Abruzzo l'impegno diretto di scelta civica e della rete dei cittadini per l'Italia a sostegno dei comitati liberi sì, presieduti a livello nazionale dal Presidente Marcello Pera, una piattaforma che vuole contribuire non solo alla vittoria del sì al referendum del prossimo 4 dicembre, ma che vuole essere il punto di partenza anche per la riaggregazione politica dell'area moderata e liberale. All'incontro, svoltosi a Mociano Sant'Angelo, il Ministro per le Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi, il Senatore Marcello Pera, Presidente del Comitato Nazionale per il Referendum Costituzionale Liberi sì, ed Enrico Zanetti, Vice Ministro all'Economia e Segretario Nazionale di Scelta Civica. Incontro voluto dal Capogruppo alla Camera dei Deputati, Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia, Giulio Cesare Sottanelli. Noi crediamo che l'Italia ha bisogno di una grande azione di rinnovamento, di snellimento per renderla competitiva nelle nostre istituzioni a livello mondiale. Oggi non è così, il bicameralismo paritario l'abbiamo solo noi in Italia, non è in nessun'altra parte del mondo e quindi riteniamo che la nuova classe dirigente nazionale, a partire da Renzi e tutti quanti noi che per la prima volta siamo entrati in Parlamento, vogliamo definitivamente Rottamare, D'Alema e Brunetta e vogliamo che gli altri giovani senza reddito prima di entrare in politica e quindi Salvini, Di Maio e Di Battista che non hanno mai lavorato nella loro vita, ovviamente hanno cavalcato le sabbie mobili delle istituzioni italiane negli ultimi 20 anni cercando con il populismo di carpire la buona fede di tante persone che stanno in difficoltà e quindi grazie a questo sistema sono entrati in Parlamento. Quindi loro vogliono continuare che lo Stato italiano sia organizzato in questo modo perché grazie a questo loro oggi sono in Parlamento. Noi invece vogliamo bene all'Italia e agli italiani per cui diciamo che bisogna innovare, rinnovare, snellire, rendere più efficiente lo Stato italiano e la riforma costituzionale è la madre di tutte le riforme. Ascoltiamo ora anche le ragioni del no attraverso le parole dell'onorevole Serafino Pulcini, ex deputato dei progressisti italiani. Onorevole Pulcini, oggi il Ministro Boschi è dalle nostre parti per le ragioni del sì al referendum del prossimo 4 dicembre. Lei che è stato un uomo delle nostre istituzioni, cosa ne pensa del referendum e quali sono le motivazioni? Io voto no e quindi mi esprimo immediatamente. Questi che sostengono il sì e che rappresentano soprattutto le istituzioni governative a parte Marcello Pera io li definisco tutti quanti incompetenti dal punto di vista costituzionale in mala fede perché queste riforme non porteranno nessun beneficio al popolo italiano. Queste riforme porteranno solo beneficio alle lobby della grande finanza e praticamente ai proprietari della Banca Centrale BCE e della Banca d'Italia i quali attraverso il sistema bancario hanno fatto pressioni oramai credo da 20-30 anni affinché in Italia si modificano le norme costituzionali. Io voterò no con la speranza che vinca il no perché altrimenti si determina attraverso il referendum una spaccatura del popolo italiano sulle regole che riguardano tutti i cittadini. L'Assemblea Costituente del 1948 si preoccupò molto di questo tanto che tutti gli articoli della Costituzione vennero approvati con maggioranze molto ampie pur se la Costituente era formata da uomini appartenenti a schieramenti opposti dal punto di vista del pensiero politico. Quindi andare a votare sì o no in questo punto è importante? È importantissimo per me votare no perché comunque le cose rimarranno come sono in quanto non abbiamo bisogno di queste riforme. Noi tutt'al più avremmo bisogno di una riforma della Costituzione che ridia al popolo italiano la sovranità monetaria. L'Abruzzo si conferma terra di emigrazione. Sono quasi 180 mila i cittadini della regione iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. L'incidenza sul totale della popolazione è del 13,5%. A livello nazionale solo Basilicata, Calabria, Morisse, Sicilia e Friuli, Venezia e Giulia evidenziano un tasso di emigrazione più elevato. A rivelarlo è l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes presentato due giorni fa a Roma. La provincia abruzzese che negli ultimi anni si è svuotata di più è quella di Chieti con circa 74 mila partenze verso destinazioni estere. Seguono con dati più contenuti l'Aquila, quasi 40 mila iscritti all'Aire, Teramo circa 33 mila e Pescara circa 32 mila e 5. Quanto alle destinazioni, la meta principale degli emigrati abruzzesi è l'Argentina, 19,6%. Poi tra le destinazioni più gettonate ci sono anche la Svizzera, il Belgio, il Venezuela, la Francia e la Germania. Cambiamo pagina, ha vinto la governance del CDA per l'ACA nel corso dell'Assemblea dei Sindaci che si è svolta questa mattina presso Confindustria di Pescara. Le votazioni hanno detto che Luca Toro è il nuovo presidente dell'ACA, CDA completato da Mirko Velluto e Giovanna Brandelli. Luca Toro è il nuovo presidente dell'azienda comprensoriale acquedottistica ACA. Accanto a lui due consiglieri Mirko Velluto e Giovanna Brandelli, eletti con 37 voti. Nella mattinata dedicata all'Assemblea dei Sindaci si sono incontrati dissapori tra chi sosteneva una governance a tre puntando sul ripristino del CDA e chi invece sosteneva l'esigenza di rinominare un amministratore unico come era successo con l'ultima nomina portata a termine un mese fa da Vincenzo di Baldassarre. Gli scontri più accesi hanno visto protagonisti il sindaco di Chieti, Umberto Di Premio e quello della vicina Francavilla, Antonio Luciani. Vi è una legge, la madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico. Sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Ci sono visioni diverse, ci sono tentativi fatti dalla politica di aprire un fronte piuttosto che un altro, in verità a me la politica mi interessa veramente poco. Un CDA di tre persone che però prenderanno un compenso, tutte e tre sommate, equivalente a quello che prendeva prima l'amministratore unico. Quindi con invarianza di spesa, senza un centesimo in più, ma tre persone volenterose che vogliono lavorare per il territorio, non collegate in alcun modo alla politica, ma anzi prese dalla società civile. E nel comune di Pescara ieri si è chiuso il rimpasto con l'assegnazione ufficiale delle deleghe da parte del sindaco Marco Alessandrini che andiamo ad ascoltare. Rimpasto di giunte e rimpasto di deleghe, ieri si è conclusa l'ufficializzazione di tutte le cariche con le relative competenze. Enzo Del Vecchio resta come vice sindaco, nonostante i rumors lo vedessero messo in discussione e i tre nuovi ingressi causano uno scorporamento delle vecchie deleghe. Il professor Civitarese Marteucci e l'architetto Scotolati dividono fra loro programmazione e gestione del territorio, che significa urbanistica e mobilità all'uno, edilizia subo app e ambiente all'altra. Antonella Allegrino, anch'essa nuovo assessore, si occuperà di politiche sociali a 360 gradi. Per quanto riguarda invece gli altri, il bilancio passa nelle competenze di Diodati, che mantiene lo sport, conferme per gli altri con questa piccola aggiunta in capo a Giacomo Cuzzi, che si occuperà anche di pubblica istruzione. A tutti chiediamo naturalmente un rinnovato e concorde sforzo, con la necessità di rendere visibile e percepibile questo cambiamento che abbiamo attuato. Da adesso in poi, quali saranno le priorità per il Comune? Le priorità sono tante. E diciamo, innanzitutto, alcune che riguardano la qualità dell'aria, dell'ambiente e dell'acqua. Quello che è accaduto quest'anno, ma non solo da un po' di anni, cioè sulla perdita della qualità delle acque di balneazione, poi ci sono questioni urbanistiche sicuramente in primo piano, per la riqualificazione di alcune aree dismesse, non solo quelle centrali della città, ma anche quelle periferiche. E poi, edilizia, il verde, il decoro urbano. Certo, abbiamo lavorato in questi anni in maniera, come dire, col freno ridotto, ma non per incapacità dell'aggiunta, ma per impossibilità di esercitare il nostro ruolo, stante una ristrettezza di risorse finanziarie dovuto al fatto che il Comune di Pescara non dobbiamo dimenticarlo è un Comune in predissesto. Nel prossimo servizio ci occupiamo del convegno che si è tenuto questa mattina a Giulianova. Il tema è il cybercrime, un convegno voluto dall'Ordine degli Avvocati, dalla Polizia di Stato e dall'Amministrazione Comunale. Ho voluto questo convegno perché il tema degli attacchi attraverso la rete informatica, quindi il crimine informatico, è un fenomeno in espansione preoccupantissima. Un dato può essere illuminante. Negli ultimi quattro anni i reati attraverso la rete informatica sono cresciuti dal 3,2 al 14%. Non è solo un attacco alle aziende che stanno patendo danni enormi fino alla chiusura a causa di questi attacchi informatici, ma alla persona, pedopornografia, reti oscure nelle quali navigano e operano soggetti malavitosi che interloquiscano solo fra di loro. Sono fenomeni inquietanti che abbisognano un'attenzione particolare a partire dal legislatore nazionale che deve attivarsi per studiare atti e leggi che frenino questo fenomeno. Io ho indicato un'esperienza che già è stata portata avanti dal 2014 in avanti dallo Stato di Israele, che per ragioni contingenti dovute alla sua situazione geopolitica si è messa in moto e che con un gioco di squadra che auspica o venga fatto, lo auspico fortemente anche dall'Italia, è riuscita a contenere i reati informatici al di sotto dell'1%. Si trova ricoverata in grevi condizioni al centro ustionati dell'ospedale civico di Palermo la donna abruzzese di 66 anni, ustionata per la fuoriuscita di gas da una bombola. L'episodio è accaduto ieri sera in un appartamento di Vico Gioberti nel centro di Avola in provincia di Siracusa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Nell'appartamento risiedevano due coppie di abruzzesi in vacanza in Sicilia. Dopo più di 30 anni attendono ancora di essere risarcite più di 20 famiglie che hanno subito degli espropri per la realizzazione dell'asse attrezzato Chieti-Pescara. Denunciare questo rimbalzo di responsabilità tra Regione e Anas e il consigliere regionale dei 5 Stelle, Pettinari. Sono ancora in attesa di ricevere il denaro relativo ai terreni ceduti per la realizzazione dell'odierno asse attrezzato. 20 famiglie che insieme dovrebbero percepire una somma totale di 12 milioni di euro e che oggi, dopo anni passati in tribunale, assistono ad un rimbalzo di responsabilità tra Regione e Anas. La storia parte nel lontano 1967, quando fu costituito il consorzio industriale Chieti-Pescara insieme alle due rispettive Camere di Commercio e 34 comuni del territorio. Successivamente tutto fu ceduto all'Anas, che però, nel momento del passaggio di pertinenze, non prese carico delle somme da versare a quei cittadini. Un impegno poi lo prese anche l'attuale vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, che a seguito di un'interrogazione del consigliere regionale, Domenico Pettinari, prese l'impegno di portare a termine l'impresa per lo scorso mese di maggio. Oggi il Movimento 5 Stelle torna a denunciare l'immobilismo e la beffa per quelle famiglie. Intanto è una situazione veramente vergognosa, oserei dire. Ho interessato la Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo costituì a suo tempo il consorzio industriale Val Pescara, un consorzio che praticamente sta in dissesto finanziario. La Regione Abruzzo si è spesa più volte per garantire di risolvere questo problema e quindi indennizzare anche Median dell'Anas. Nulla di fatto. Queste persone non ce la fanno più. Sono oltre 20 famiglie che sono disposte veramente a tutto. Perché la Regione Abruzzo si è impegnata. È l'unico ente in questo momento vicino ai cittadini, più vicino ai cittadini, che ha responsabilità di agire. Quindi agisca in fretta. Ricordiamo anche un'intervista del Presidente D'Alfonso che diverso tempo fa prometteva, garantiva la risoluzione di questa vicenda. Solo promesse sulla pelle di questa povera gente. Dopo l'approvazione nel 2014 della legge sull'uso per fini terapeutici della cannabis, l'esponente di rifondazione comunista Maurizio Cerbo chiede alla Giunta regionale di correggere il decreto appena emanato. La legge c'è dal 2014. L'avevo proposta io e fu approvata quasi all'unanimità del Consiglio regionale. Abbiamo protestato in questi quasi tre anni perché la Giunta regionale di D'Alfonso e Paolucci non dava attuazione alla legge. Ci sono stati casi eclatanti come l'arresto di Fabrizio Pellegrini che in base alla legge avrebbe avuto diritto a ricevere, tra l'altro gratuitamente, dalla ASL i farmaci a base di cannabinoidi. Adesso è uscito finalmente il decreto, meglio un comunicato che annuncia il decreto perché il decreto su internet non si trova, in cui però la Regione limita ad alcune categorie di malati, ad alcune patologie la possibilità di ricevere questi farmaci preparati a base di cannabinoidi. Però questa non è la legge. La legge non delega la Giunta a decidere quali sono i malati e quali sono gli specialisti che possono prescrivere. La legge dice che possono prescrivere tutti gli specialisti del servizio sanitario regionale e poi i medici di base, sulla base di quel piano terapeutico, possono proseguire con le ricette necessarie a quel piano terapeutico. Io sono contentissimo che finalmente sarà, nella terapia del dolore, per tante malattie molto gravi a disposizione delle ASL abruzzesi, grazie alla nostra legge, la cannabis terapeutica, che è molto meno invadente di altro tipo di farmaci che oggi vengono usati e che tra l'altro sono costosissimi per la nostra sanità. Però questa discriminazione è illegittima, è contraria alla legge e io invito Paolucci e D'Alfonso a correggere il decreto. Appenne il primo cittadino rassicura studenti e familiari sul caso delle aule danneggiate. I lavori richiederanno un piccolo sacrificio. I ragazzi dovranno affrontare turni pomeridiani per effettuare i lavori di ripristino nel minor tempo possibile. Siamo appena rientrati, io e l'assessore Campitelli, da una visita fatta nella scuola che sta attualmente subendo dei lavori di aggiornamento e di messa in sicurezza e stiamo notando che i lavori stanno andando avanti con rapidità. Questo comporterà di dare il minor disagio agli alunni e soprattutto anche ai familiari e prevediamo quindi che il sacrificio che abbiamo chiesto di affrontare un turno pomeridiano ad alcuni studenti sarà di breve durata e quindi, ripeto, il tutto porterà, dopo questo sacrificio che noi abbiamo richiesto, sicuramente ad un ripristino della normale attività scolastica. A seguito del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco ci siamo immediatamente adoperati tramite l'ufficio tecnico ad effettuare quei lavori necessari e indispensabili per rimettere in sicurezza quelle aule. Siamo appena rientrati anche da un sopralluogo fatto insieme al sindaco per renderci conto anche personalmente che i lavori stanno andando avanti anche in modo celere. Attualmente comprendiamo il disagio per le classi che saranno costrette ad effettuare il turno scolastico in orario pomeridiano però i lavori che stiamo effettuando e anche i test che l'ufficio tecnico ha predisposto dovranno rassicurare tutti quanti per la stabilità e la sicurezza di quelle aule. In questo momento è tutto in fase ancora di valutazione sul da farsi. Si chiama progetto CIGAWAY, il protocollo d'intesa che riunisce ANCI, comuni, consorzi di rifiuti, associazioni ambientaliste e consumatori in nome delle buone pratiche ambientali. La regione Abruzzo è impegnata nel perseguire e diffondere politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche ambientali e in particolar modo all'implementazione di azioni che possano portare al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti. A dichiararlo il sottosegretario alla presidenza della regione, con delega all'ambiente, Mario Mazzocca, nel corso della presentazione del progetto CIGAWAY. Per l'attuazione di tali principi, la regione Abruzzo, con provvedimento di giunta del 16 febbraio scorso, ha approvato le linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti ed ha inserito la riduzione della produzione e della loro pericolosità, fra gli obiettivi strategici da raggiungere. Il protocollo d'intesa adetta le linee di un progetto sperimentale per la riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani. Il progetto CIGAWAY, che nasce da una collaborazione tra lanci, comuni, consorzi intercomunali di rifiuti e loro società SPA, associazioni ambientaliste dei consumatori, operatori economici e le loro associazioni, al duplice scopo di mantenere l'ambiente pulito e educare i cittadini a un maggiore rispetto per l'ecosistema, attraverso campagne di sensibilizzazione dei cittadini e dell'utilizzo di uno specifico contenitore. Lectio Magistralis, ieri per il presidente dell'Inps ed economista Tito Boeri all'Università di Teramo, tra i temi affrontati, il futuro dei giovani nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Voglio guardare al futuro, alle occasioni di lavoro dei giovani, perché penso che sia molto importante in questo momento così difficile per il mercato del lavoro dei giovani, condividere con loro alcune impressioni su quali sono i problemi, dove si possono trovare delle opportunità di impiego, che cosa implicano queste opportunità di impiego, quindi cercare di dare loro qualche guida per orientarsi meglio verso il futuro. All'altra parte l'Inps guarda molto il mondo del lavoro, si pensa che l'Inps siano pensioni soltanto. Come vede questo Jobax? Diciamo che ha dato dei risultati importanti nel stabilizzare l'impiego, noi abbiamo visto che c'è stato un forte incremento dei contratti a tempo indeterminato e questo spero, mi auguro, che porterà in futuro anche un aumento della produttività, perché quando ci sono dei posti di lavoro che vengono creati, che hanno dei contratti a tempo indeterminato, c'è un incentivo più forte sia per il lavoratore che per il dottore di lavoro a investire nella formazione sul posto di lavoro. La precarietà però è ancora un problema grande? Assolutamente sì, è molto forte all'interno del nostro paese, però è anche vero che da quando è iniziato il contratto a tutte le crescenti sono diminuiti altre forme contrattuali, per esempio i dati su parassubordinata che abbiamo reso pubblici ieri dimostrano come i contratti a progetto, le collaborazioni siano diminuite fortemente, quindi probabilmente c'è stata trasformazione di queste figure contrattuali in contratti a tempo indeterminato e questo è sicuramente un fatto positivo. La riforma dell'Inps è fondamentale perché c'è bisogno di avere una macchina efficiente, uno dei cardini di quella riforma è rafforzare la nostra presenza sul territorio, darci la possibilità di rispondere ad esigenze mutevoli degli utenti, l'APE è un'operazione assolutamente nuova che pone l'Inps a svolgere delle funzioni che non ha mai fatto in passato e quindi le due cose devono per forza di cose andare di pari passo, proprio non è possibile concepire un'Inps che svolge queste sue nuove funzioni senza riorganizzarsi e quindi sono davvero molto importanti e quindi noi ci muoveremo in quella direzione. Ed ora la pagina dello sport, intanto con il Pescara che visto il turno di riposo per l'impegno della Nazionale ha svolto nel pomeriggio al Mastrangelo di Montesivano un test amichevole con la squadra Primavera, è finita 2-0 per il Pescara, le reti nel primo tempo segnate da Benali e da Baibach su calcio di rigore, è proprio l'impiego dal primo minuto di Baibach è una delle note più positive per Massimo Oddo che dunque ha ritrovato un attaccante che sarà dunque a disposizione per la gara di sabato prossimo contro la Sampdoria. Baibach si è mosso bene e ha appunto realizzato la seconda rete. In campo dal primo minuto anche Aquilani con Cristante a centrocampo, buoni dispunti anche dell'esperto centrocampista. In difesa si è rivisto Coda al centro con Fornasier dirottato a destra e Zuparic che ha composto la coppia centrale proprio con Coda. Dopo la partita i giocatori si sono trasferiti in via Regina Margherita a Pescara per l'inaugurazione del rinnovato store ufficiale. E ora la Lega Pro, proprio in questo momento è in corso l'intervallo da pochi minuti della gara tra Teramo e Padova. Noi ci colleghiamo subito con Jacopo Forcella allo stadio Bonolis per farci raccontare come sono andate le cose nel corso del primo tempo. Jacopo per te due minuti. Buonasera Andrea, 0-0 hai detto bene le squadre che sono nell'intervallo, 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Teramo e Padova in questo turno di Lega Pro. con il Padova meglio nella prima mezz'ora di gioco. La squadra dello squalificato Oscar Previ, affidato dal giudice sportivo, dicevamo Patavini, decisamente migliori nei primi 30 minuti di gara. Soprattutto con le iniziative dei due attaccanti Altinier e Alphageme. Su Alphageme peraltro c'è stato un recupero quasi miracoloso della coppia Steffè-Boulevardi. Dalla mezz'ora in poi, nell'ultimo quarto d'ora, quasi tutto a pannaggio del Teramo, coinciso presso a poco con il cambio di modulo da parte del tecnico del diavolo Federico Nofri che alla mezz'ora ha schierato la sua squadra con il 3-5-2, dunque il ritorno alla difesa 3 dopo l'iniziale 4-4-2. Poi da quel momento si è visto un Teramo decisamente più spigliato con il diagonale di Croce al 43, finito fuori davvero di un soffio e poi con una manovra decisamente più fluida. Vi dico che il primo tempo si è chiuso con un giallo perché Cappelletti, già ammonito nel corso della prima frazione, ha sbracciato su Croce che cercava di arrivare sul pallone, l'attaccante del Teramo è rimasto a terra colpito proprio dal difensore del Padova proprio nel momento in cui Manuel Volpi di Arezzo ha fischiato per due volte per mettere fine alla prima frazione le proteste della formazione di casa che avrebbe voluto quantomeno il secondo giallo per Cappelletti, invece Volpi di Arezzo ha soprasseduto e dunque si tornerà in campo 11 contro 11. Dicevamo di Croce che è la novità rispetto all'11 che avevamo ipotizzato ma Croce che è stato praticamente inserito nella mischia proprio dopo il riscaldamento perché nel riscaldamento si è fatto male, Jefferson che va in panchina dal primo minuto Croce, un infortunio proprio nella fase di riscaldamento per il centravanti brasiliano e dunque la coppia d'attacco è quella formata da Croce e Sanzovini. Per il momento è tutto dallo stadio Bonalis di Teramo, Teramo 0, Padova 0, la linea a te Andrea. Grazie, grazie a Jacopo Forcella, proseguiamo sempre con il calcio e facciamo una panoramica sulla giornata di Serie D. E' Mattelica Vastesi il big match che domina la sesta giornata di Serie D. La partita che si giocherà nell'impianto del comune maceratese opporrà due delle tre battistrada del girone F. A Mattelica la squadra di Colavitto sarà sostenuta da 200 tifosi che affronteranno la lunga trasferta. Alcuni pullman sono stati messi a disposizione dalla società. Lo scontro al vertice sarà anche una sfida nella sfida tra i due principali cecchini del girone, il matericese Manuel Pera e il vastese Umberto Prisco, entrambi a quota 6 gol segnati. Ma tra le due litiganti potrebbe godere la terza battistrada, specie in caso di segno X. L'Olimpia agnonese di Alessandro del Grosso se la vedrà con il derelitto Chieti che difficilmente potrà ostruire la marcia della squadra molisana che mira al quarto successo consecutivo. Trasferta vietata ai residenti in Abruzzo, a Chieti dopo cinque sconfitte e una valanga di gol subiti, più che altro continuano a tenere banco le questioni societarie con gli Ultras che dopo l'incontro avvenuto in settimana hanno sollecitato il sindaco a indagare sulla consistenza del progetto calcistico del patron Giacomini. Cercano il cambio di passo Pineto e San Nicolò. La compagine adriatica si è rinforzata con gli innesti di Straccia e Ragazzo, i quali saranno a disposizione del tecnico a Mazzalorso ma difficilmente giocheranno dal primo minuto del match di domani con la San Maurese. San Nicolò in trasferta sul difficile campo della Re Canatese è ancora alla ricerca del bandaro della Matassa per dare una svolta positiva al difficile avvio di stagione. Nel giro nei giri due abruzzesi sono reduci da sconfitte. Anticipa le 14.30 l'Avezzano sul campo della Nuorese, squadra ben attrezzata e che in settimana ha infoltito l'organico tesserando 2.97. il centrocampista Desimone dal Napoli e l'attaccante argentino Lissasso. I marsicani provano a tacitare una settimana difficile dopo il K.O. inopinato col Muravera e lo sfogo del presidente Paris. Contro il Lanusei, squadra di seconda fascia del girone, l'Aquila andrà a caccia della prima vittoria a Casalinga anche se il tecnico Morgia dovrà rinunciare al portiere Salvetti e l'attaccante, buon vissuto, infortunati, recupera in extremis Gagliardini, sarà Ganci a guidare l'attacco. Chiudiamo con il golf, due grandi eventi caratterizzeranno il mese di ottobre del milianico golf club con l'Alps Tour e la Grand Final, tanti golfisti professionisti arriveranno in Abruzzo nelle prossime settimane. Allora si raddoppia con gli eventi internazionali professionistici non solo Alps Tour quest'anno nel mese di ottobre ma anche Grand Final. Sì, l'avevamo detto, comunque c'era una sorpresa, la sorpresa comunque è arrivata perché comunque ci hanno assegnato il Grand Final, questo per premiarci l'impegno che abbiamo avuto, che abbiamo dimostrato comunque in questi due anni. Per me è una grande soddisfazione, una soddisfazione naturalmente per il gran lavoro che ha fatto tutto lo staff, il circolo, i soci, quindi diciamo che un applauso va a tutti. Grande sforzo anche organizzativo perché arriveranno da tutte le parti d'Europa i migliori golfisti del continente. Sì, un grande sforzo organizzativo però comunque abbiamo oramai, siamo diventati esperti quindi diciamo che in questi due anni siamo riusciti ad avere la capacità di portare avanti questo importante evento. Facciamo il Grand Final sicuramente impegnativo da tutti i punti di vista, anche economici, ma qui devo dire che devo ringraziare in maniera particolare anche la regione Abruzzo che comunque ci sostiene anche da questo punto di vista e quindi siamo pronti. Quando ti dicono Miglianico Golf Club esempio di gestione virtuosa nel mondo del golf e questo te lo dice il Presidente Federale Chimenti, come è stato? Come ti senti? Io mi sento veramente contento, soddisfatto perché comunque è un ringraziamento a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, l'abbiamo fatto con molta attenzione ma più che altro perché comunque amiamo questo tipo di attività, amiamo il territorio, amiamo la regione Abruzzo e vogliamo un certo qual senso attraverso il nostro campo far conoscere quello che è il nostro territorio un po' a livello nazionale e a livello europeo. Da questo punto di vista la federazione ci ha appoggiato, devo dire anche con grande fermezza, quindi comunque ci è vicino, ci è a fianco e quindi adesso siamo pronti anche per andare avanti, per avere anche, lavorare anche su degli obiettivi ancora più importanti. È davvero tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!